E' stato colto sul fatto, mentre tentava di svaliggiare un appartamento in piena notte, forse convinto di poter agire indisturbato per via dell'assenza del proprietario. Ma ha fatto male i suoi conti il 55enne di Terlizzi, Domenico De Nicola, arrestato dagli agenti di polizia di Corato, con le accuse di rapina, danneggiamento, lesioni e violenza privata. Introdottosi all'interno dell'abitazione, il ladro stava facendo razzia di gioielli ed elettrodomestici, quando è stato sorpreso dal proprietario, appena rientrato, dopo una serata fuori. Vistosi braccato, il topo d'appartamento ha cercato di guadagnarsi la fuga, aggredendo la vittima con un oggetto contundente, colpendola sul capo e stordendola, il tempo necessario per abbandonare la scena del furto. Ripresosi dopo pochi istanti, il proprietario uscì sui strade e si è lanciato all'inseguimento del ladro, urlando ai passanti di fermarlo. La fuga del 55enne si è conclusa con l'arrivo degli agenti del commissariato locale, allertati da una telefonata giunta in sala operativa. Durante la corsa, il ladro è inutilmente cercato di sbarazzarsi dell'area furtiva, ammocchiata in un sacco di plastica e abbandonata sul ciglio della strada. Gioielli e materiale ITEC, parzialmente danneggiato, sono stati recuperati dagli agenti e restituiti al legittimo proprietario. Per il malvivente troppo sicuro di sé, invece, sono scattate le manette.